Noi abbiamo partecipato attivamente, abbiamo distribuito lungo l'arco dell'anno due tonnellate e mezzo di generi alimentari. Questa iniziativa non si ferma qui, siamo già sulla stessa lunghezza d'onda io e il mio successore, il mio incarico terminerà il 30 di giugno. Porteremo avanti, fin tanto che ne avremo le forze e la possibilità, questa iniziativa. Oggi consegniamo 500 kg di generi alimentari per le 150 famiglie di cui il nostro territorio purtroppo in questo momento vi è necessità. Il progetto Dacci Oggi il nostro pane quotidiano è un progetto nato da una sintesi felice del territorio e dei suoi amministratori. Sono 10 sindaci, il sindaco di Sartirana, di Breme, di Candia, di Cozzo, di Semiana, di Torre Beretti, di Frascarolo, di Pieve del Cairo, di Suardi e spero di non aver dimenticato nessuno, i quali si sono uniti in questo progetto finanziato al 70% fondo perduto da parte di Cariplo, fondazione comunitaria del provincio di Pavia, che non finirò mai di ringraziare. Un progetto da 40.000 euro che si distribuisce in due anni e serve a dare il pane quotidiano, fra virgolette, a 150 famiglie del territorio. Un momento forte, un momento significativo, un momento tangibile, come si direbbe senza vene polemiche, prima la nostra gente, perché la nostra gente ha bisogno e noi ci stiamo pensando.